Serviranno due settimane per avere dati certi sulla morte della piccola Elisabeth, la bimba di otto mesi trovata senza vita nella sua culla, Grosseto. Ma i primi risultati aprono all'ipotesi di un decesso per asfissia. Con i dati certi si saprà se la crisi respiratoria è arrivata per cause naturali oppure indotta da fattori esterni. Intanto i carabinieri hanno sequestrato una coperta dall'appartamento della madre, Jessica, una ballerina domenicana di 28 anni indagata per l'omicidio della figlia, morta il 6 giugno scorso. Secondo un'ipotesi investigativa la coperta potrebbe essere stata usata per soffocare la piccola nella culla. La donna, da poco trasferitasi in città, secondo gli inquirenti, dopo la morte non avrebbe chiamato né i soccorsi né le forze dell'ordine. L'unica telefonata l'ha fatta ad un'amica che nell'ultimo periodo si prendeva cura della bambina mentre lei era impegnata con il suo lavoro svolto soprattutto di notte. Erano le 22 di lunedì 6 giugno, quando la donna è arrivata nell'appartamento trovando il corpicino di Elisabeth senza vita dal mattino e solo a quel punto sono stati chiamati i carabinieri. Ma ormai era troppo tardi. Non è semplice ricostruire con esattezza l'accaduto anche perché i racconti dati dalla madre ai carabinieri sono confusi e frammentari. C'era solo lei con la bambina quel giorno e l'unica telefonata partita dal suo cellulare è stata per l'amica, una cinquantenne grossetana che si era offerta di darle una mano durante i suoi turni di lavoro come badante. Jessica arriva a Maremma dalla provincia di Napoli poche settimane fa e trova come prima sistemazione una cantina marina di grosseto ma pochi giorni dopo dovrà abbandonarla perché un residente segnala la sua presenza abusiva. Mamma e figlia vengono così prese in custodia dai servizi sociali e Jessica, ex ballerina dei nightclub, trova un lavoro come badante e una casa in via Ximenez, non distante dal centro. Dagli esami pediatrici la bambina non aveva problemi di malnutrizione e nella sua salute poteva far presagire una tragedia simile. Ma soprattutto i carabinieri hanno ascoltato la versione della madre da cui riferisce il procuratore capo di Grosseto, Raffaella Capasso, sono sorti dubbi in merito allo strano comportamento della madre e al suo racconto contraddittorio, se non, osserva il procuratore, chiaramente mendace.